Il 2015 si chiude con oltre 11 milioni di euro di lavori e progetti in corso di finanziamento relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Parliamo della cifra complessiva per le attività eseguite dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per la tutela del territorio e la sua salvaguardia dal rischio idrogeologico. Con 3,27 milioni di euro sono Arezzo e la sua provincia ad avere il numero maggiore in termini di consistenza economica per quanto riguarda gli interventi. Sempre per il capoluogo provinciale il territorio circostante sono in corso di finanziamento 2,8 milioni di euro per attività straordinaria e 700 mila per lavori ordinari. Abbiamo un buon bilancio, lo ripeteremo nell'anno prossimo e secondo me dovremo ancora implementare molto l'attività gestita in economia direttamente da parte del Consorzio, ciò significa acquisire un numero maggiore di operai. Tra gli interventi più significativi dell'anno che volge al termine l'inaugurazione delle quattro casse di espansione del torrente Castro nel tratto che va da Molinelli a Stagiano. Un'operazione importante ai fini della protezione dal rischio idrogeologico per tutta la città di Arezzo. Grande soddisfazione è stata espressa anche per il lavoro svolto nei territori. Siamo contenti di aver distribuito anche il nostro intervento sui territori, vorremmo privilegiare molto più la montagna anche perché i distretti idrogeologici avvengono essenzialmente in montagna. Tra le novità per il 2016 c'è anche il piano di classifica sul quale in base alle singole esigenze verranno incentrati e proposti gli interventi di manutenzione ordinaria su tutto il comprensorio e di conseguenza anche il relativo contributo consortile. Era uno strumento molto diversificato fra i consorsi invece ora sarà uno strumento praticamente unico, tutti ci muoveremo in quella direzione per cui ci sarà anche un riequilibrio dei quantum debbono corrispondere ai consorziati.